Cari colleghi e cari colleghe, potrebbe interessarvi un social dove non c'è nessun tipo di censura? Si può essere apertamente razzisti, xenofobi, misogini e anche fascisti? E dove, cito, non si è zittiti dal dialogo pubblico? Beh, se siete persone decenti, probabilmente no. Eppure, nei giorni successivi alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, agli onori della cronaca e al primo posto delle classifiche delle app più scaricate di Apple e Android, è salita una piattaforma social che negli ultimi mesi ha acquisito una certa popolarità nell'estrema destra statunitense. E non solo. Mi riferisco a Parlez, che è un po' sulla bocca di tutti proprio per via del boom di iscrizioni verificatosi di recente. Pensate che in realtà Parlez è stata fondata nel lontano 2018 da due imprenditori informatici originari del Colorado, ossia John Mazze e Jared Thompson. Sulla scia di quanto successo ad altri social, nei primi sei mesi la piattaforma non se l'è filata praticamente nessuno. Lo spartiacque è stato dicembre del 2018, quando, anche grazie alla pubblicità fatta da esponenti di spicco dell'estrema destra statunitense, tutto ad un tratto si sono iscritte 10.000 persone. A giugno del 2019, poi, c'è stato un altro aumento, stavolta di ben 200.000 iscritti, che in questo caso provenivano principalmente dall'Arabia Saudita. Sono numeri di tutto rispetto, per carità, però nulla a confronto di quelli più recenti. A novembre del 2020, infatti, il social ha registrato circa 4 milioni di utenti attivi e oltre 10 milioni di utenti totali. Per quanto queste cifre siano impressionanti, ci tengo a ricordarvi che su Twitter sono attivi giornalmente quasi 200 milioni di utenti e Facebook fa impallidire la concorrenza con oltre 1,5 miliardi di utenti che ogni giorno lo utilizzano per messaggi, post e così via. Il confronto con le piattaforme più tradizionali, però, ci sta e come. Questo perché negli ultimi anni Twitter, e in misura minore anche Facebook, ha cercato di limitare la diffusione di messaggi d'odio e violenti. Inoltre ha aggiunto la cosiddetta funzionalità del fact-checking, ossia passa al vaglio la veridicità delle informazioni pubblicate sulla piattaforma. Immagino abbiate visto che se adesso provate a fare il retweet di un articolo senza averlo aperto e letto, Twitter vi chiede se magari prima non vi interessa leggerlo. Oppure che a volte sotto ai tweet compare una dicitura che dice, ad esempio, informazione non verificata. Twitter addirittura è arrivato a sospendere gli account di personaggi influenti dell'estrema destra che facevano un po' da cassa di risonanza per teorie del complotto e bufale di vario tipo, foggia e dimensioni. Ad esempio, Katie Hopkins, che in realtà è britannica, ma ha spopolato negli Stati Uniti, e Alex Jones, che è una grande amante delle teorie del complotto. Ebbene, Parlez si offre appunto come alternativa alle piattaforme tradizionali, pur conservando degli elementi che la comunano a queste ultime. La grafica di Parlez, dal nome immagino avrete intuito che deriva dal francese e significa parlare, è stata scopiazzata da quella di Twitter, solo che stavolta è di colore magenta. Le funzioni sono identiche a quelle di altri social, si possono avere follower, pubblicare dei post, mettere il mi piace e così via. E per iscriversi si fa un po' come su Telegram, ossia in realtà non serve neanche fornire un documento di identità. Inoltre, si possono pubblicare messaggi fino a mille caratteri e votare oppure condividere i post degli altri. Ad attirare a frotte i sostenitori di estrema destra sono i termini di servizio e i permessi della piattaforma, che sono piuttosto vaghi e a volte anche contraddittori. Ad esempio, è vietato fare spam, non si possono sostenere organizzazioni terroristiche, non si può diffamare nessuno e la piattaforma ha detto no alla pornografia e alle oscenità. D'altro canto, però, tutte le opinioni di estrema destra sono ben più che tollerate. Di fatto, quindi, c'è il via libera a contenuti antisemiti, antimusulmani, complottistici e anche pornografici, perché basta nascondere il tutto dietro a un link. John Mazze, uno dei fondatori, segue la teoria secondo cui la rimozione di contenuti altro non fa che radicalizzare ulteriormente le persone. E quindi, sulla piattaforma, c'è una moderazione minima, se non pressoché assente, e non esiste nessuna verifica dei post pubblicati. Oltre agli aspetti più coloriti di Parlez, che, tra l'altro, vede sempre più utenti italiani tra gli iscritti, ad esempio Daniele Capezzone, le vere domande da farsi sono altre e sono anche più importanti. Ossia, chi finanzia questa piattaforma? Da quando se ne è iniziato a parlare, infatti, per evitare indagini e mantenere un po' la pace e il quieto vivere, molti uomini d'affari affiliati con l'estrema destra e politici repubblicani, si sono fatti avanti dicendo di essere finanziatori di questa piattaforma. Da un esame più attento, però, sembra tutto fumo e niente arrosto, perché nessuno di questi potrebbe in realtà permettersi un investimento di questa entità. Se Parlez vuole davvero dare filo da torcere a Twitter, ha bisogno di collaboratori qualificati, che ovviamente bisogna retribuire, e il costo è stato stimato a 100.000 dollari statunitensi all'anno. Aggiungiamoci che la moglie di Mazze, ossia tale Alina Mukutinova, non solo è russa, ma è anche figlia di fedelissimi dell'ex Stato sovietico. E quindi capite che qui gatta ci cova. Secondo alcuni esperti statunitensi, questo social network di estrema destra rischia di fare una brutta fine, se non altro perché col tempo diventerà irrelevante. Ora, io non ho la sfera di cristallo, ma devo dire che questo scenario mi pare alquanto allettante. Grazie. 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 Grazie.